Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono mille anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì, una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn, un sistema di terraformazione con nove funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Udito e protetto. Dalle macchine. E con lei, scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elisabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. L'opera di Ade, uniamo l'Evola, resa senziente da un segnale misterioso. Di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto. Elia prevasso nella battaglia finale americana. Diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta. Che porterà a distruzione. E opportunità.